Davvero incredibile la trasformazione di Sam Smith nell'arco di appena un anno. Che il cantante inglese si fosse sottoposto a una drastica dieta perdendo ben 20 kg in 12 mesi era cosa risaputa. Ho conosciuto una persona che ha letteralmente cambiato la mia vita, diceva a marzo 2015 a proposito della sua nutrizionista. Non si tratta di perdere perso, ma di sentirsi bene con se stessi. Allora, era apparso chiaro come l'intento di Smith fosse quello di optare per uno stile di vita più sano. Le ultime immagini che ritraggono il 23enne londinese hanno però messo in allarme i suoi fan. In particolare, d'esta perplessità una foto da lui postata pochi giorni fa su Instagram, che mostra uno Smith mai così magro e con la barba lunga. Basta confrontarla con scatti risalenti al periodo pre-dieta per accorgersi come il cantante sia diventato, praticamente, un'altra persona. Nei commenti alla foto, qualcuno insinua persino che Smith abbia problemi di salute. Questa curiosa, per certi versi scioccante, metamorfosi arriva in un momento in cui l'artista sta ricevendo immense soddisfazioni dal punto di vista professionale. Il suo brano Writings on the wall è infatti stato inserito in apertura della colonna sonora di Spectre, l'ultimo film della saga di 007. Un umore che in passato è toccato a nomi come Madonna, Paul McCartney, Shirley Bassey, Duran Duran e Adele. Non solo. Writings on the wall è anche tra i candidati agli Oscar come miglior canzone originale. A confronto, Sam Smith nel 2014 e a febbraio 2016 chi se ne frega. Grazie a tutti. Grazie a tutti.